Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo presentavano a Gesù dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù al vedere questo si indignò e disse loro Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro li benediceva. Interessante, per entrare nel regno di Dio bisogna accoglierlo. Questo. E questo Vangelo è una fotografia, fratelli carissimi, di Cristo crocifisso, con i due ladroni a fianco. Il bambino in Israele a quel tempo non aveva alcun diritto, fratelli carissimi. Era poco, 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 poco più che nulla. E se l'Israele nella legislazione non era praticamente neanche contemplato, nella società pagana, ancora meno. Questo occorre tenere presente, perché dice che chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso, cioè non barcherà quella porta, la porta santa, che introduce di nuovo nella comunione, perché è a chi è come loro appartiene il regno di Dio. Chi è come loro? Allora, chi è come loro oggi? Un adulto che è come un bambino. Come un bambino in questo senso. Poi si possono fare tante riflessioni meravigliose sul bambino. Il bambino spesso è capriccioso, il bambino è dolcissimo, il bambino è indifeso, il bambino ti strappa la commozione, la tenerezza. Un bambino suscita, anche nelle persone più dure di cuore, un moto di tenerezza, di compassione. specialmente un bambino ferito, un bambino malato, un bambino violato. Vi parlavo dell'immagine della crocifissione, perché questo Vangelo è una profezia di ciò che è accaduto sul Golgotha, con Gesù che è steso le braccia sulla croce e aveva accanto l'umanità, un bambino che si era reso conto di esserlo, che aveva coscienza di esserlo e un bambino che non aveva coscienza di essere bambino. O peggio, che avendone coscienza non poteva accettarlo. Era ribellato, indurito, con il cuore indurito profondamente sino alla fine. Il buono e il cattivo ladrone, il buon ladrone. Ricordate le parole di quest'ultimo, del buon ladrone. Noi siamo condannati giustamente a questa pena. Giustamente non abbiamo più nessun diritto per comprendere più o meno di cosa sta parlando Gesù nel contesto sociale nel quale viveva. Come un bambino, perché a chi è come un bambino appartiene il regno dei cieli. Perché? Perché gli è stato donato e perché l'ha accolto. E quella condizione, la condizione di bambino, ci permette, ci fa atti ad accogliere il regno dei cieli. Anzi, di più, ce ne fa proprietari di diritto. Non so se mi spiego. Come un bambino ha il diritto di avere il regno dei cieli. Ma c'è sempre questa condizione. In noi, quale? Quella di accoglierlo. Come un bambino. Cioè come uno che non ha diritto ad averlo. Sembra un paradosso. Cioè, hai diritto perché non ne hai diritto. Hai diritto perché? Perché è talmente gratuito. È talmente fuori da ogni schema che non ne hai diritto. Cioè tu e io siamo crocifissi e quindi senza diritti. Quindi inchiodati alla verità. Per questo è necessario un cammino serio, profondo, autentico, che ci faccia scoprire veramente cosa c'è nel nostro cuore. Un cammino che a poco a poco dà la figura della donna e cattivo, per così dire, che reclama diritti, che esige da Gesù un miracolo, che pensa, si illude di avere diritti di essere stato crocifisso ingiustamente e che anche se stato crocifisso ingiustamente reclama, reclama, esige qualcosa che invece gli è stato donato. E' la figura di Adamo dopo il peccato, fratelli carissimi, che ha perso la comunione e quindi la gratuità. Ha perso il rapporto con la gratuità di Dio e quindi con lo stupore di chi si vede amato senza aver fatto nulla per essere amato. Ha perso quella condizione. E si trova, ramingo, esule, ad arraffare, a cercare di prendersi degli scampoli di felicità, degli scampoli di vita, degli scampoli di salvezza. Ma sono scampoli, sono pezzettini, sono situazioni, sono momenti. Ma poi c'è dentro quella acidità costante che appare proprio in questo ladrone nel Vangelo, che non può sopportare di essere lì e non accetta di dover morire. Perché il buon ladrone ha fatto un cammino molto serio, di umiliazione. Il buon ladrone accetta di essere quello che è, riconosce i propri peccati e sa che quello che gli sta accadendo, la realtà che sta vivendo, è giusta, è adeguata alla sua realtà. Per questo implora l'impossibile. Da quel cuore puro, sembra una contraddizione anche questa, ma non lo è. Da quel cuore puro, purificato dalla umiliazione, purificato dalla croce, purificato dai chiodi, purificato da quella situazione ignominiosa, da quella situazione scandalosa, vergognosa. Fa uscire dal profondo del suo cuore quella preghiera meravigliosa che è forse una delle più belle. Signore ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Cioè riconosce in chi si è fatto come lui, in chi si è fatto peccato come lui. Nell'innocente che ha sofferto ingiustamente, che stava soffrendo ingiustamente la stessa pena, l'unica possibilità per essere salvato. Riconosce in quell'uomo crocifisso accanto a lui Dio, il Signore, il Chirios, l'unico che poteva strapparlo da quella situazione, non perché lo faceva scendere dalla croce come esigeva l'altro ladrone, l'altro malfattore, come esigiamo molto spesso noi. Che ci venga tolta la situazione che ci farebbe convertire. La situazione, la realtà, la difficoltà, la croce, la malattia, la precarietà economica, la difficoltà di relazione con le altre persone, la nostra debolezza, perché tutta la realtà mostra la nostra debolezza. Allora, o continuiamo a lottare contro la nostra debolezza, non accettando di essere dei bambini, dei piccoli, gente che non ha nulla, gente che, come dice San Paolo, guardate la vostra chiamata, guardate chi eravate, gente senza nobili in Natale, cioè figli di nessuno, figli di nessuno. No, bambini abbandonati, salvati per miracolo dalla Lupe Tarpea, guardate, non siete colti, cioè non avete una sapienza vera, né secondo il mondo, cioè io ho scelto ciò che è nulla nel mondo, per confondere quello che il mondo ritiene sia qualcosa, quello che abbia valore, perché esattamente questo è il senso più profondo, chi conosce di essere, chi riconosce di essere quello che è e che accetta la storia e le conseguenze dei propri peccati, perché sono l'unico cammino, l'unica strada per salvarsi, che è come un bambino, cioè chi sa di non avere diritti, un bambino vive come bambino, non so come dire, cioè è senza diritti, è senza diritti, punto, no, ma i diritti, 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 da tutte le parti, per soddisfare che cosa? L'uomo vecchio, per soddisfare l'uomo dell'orgoglio, l'uomo della superbia, questo siamo tutti noi. Vedete nel Vangelo appaiono sempre questi bambini, la peccatrice perdonata, la donna che piange ai piedi di Gesù, l'adultera, ma così anche nella storia della Chiesa, Davide, è stato scelto così nella storia della salvezza, Abramo, che era anziano ma era un bambino, cioè non aveva terra, non aveva figli, non aveva a chi dare il proprio nome, a chi dare i propri beni, non aveva a chi prolungasse il suo nome, ma poi le apparizioni della Vergine Maria e le difficoltà e le sofferenze che ha avuto Bernadette, che hanno avuto i pastorelli di Fatima, per essere accolti e accettati, perché la loro testimonianza era nulla, vaneggiamenti, capito? E così, bambini, Gesù appare alla Maddalena, capito? Alla Maddalena. Noi vogliamo i diritti, no? Noi facciamo manifestazioni, noi ci indigniamo, attenzione, perché è la stessa parola che appare nel Vangelo oggi, noi ci indigniamo e lottiamo per ottenere dei diritti, la maggior parte dei quali non sono dei diritti, diritto ad abortire, diritto ad eutanasia, diritto al divorzio, ma non solo quello. Alla fine in casa non vogliamo i nostri diritti, la moglie vuole i suoi diritti, il marito vuole i suoi diritti, i figli vogliono i loro diritti, come il figlio prodigo, perché dietro a ogni richiesta di diritto c'è una grande stoltezza, una grandissima stoltezza, fratelli carissimi. Gesù invece si indigna perché vorrebbero impedire, come tutti noi vorremmo impedire, il miracolo del suo amore. Vorremmo impedire, guardate che è ancora una volta un paradosso, ma è così, vorremmo impedire a Dio di essere Dio, a Gesù di essere Gesù, al Messia di essere il Messia, cioè uno che ama chi non lo ama. Amare il peccatore, amare il povero, amare quello che non ha diritto di essere amato, ma per non impedirlo, perché noi lo impediamo dentro di noi, ancora più ingannati dal demonio, noi vorremmo impedire questo tipo di amore, vorremmo avere dei meriti da mettere davanti a Gesù, per questo chi perseguita Gesù è chi perseguiva con le proprie forze la scalata al cielo, con l'applicazione rigorosa della legge, che era esteriore secondo il Signore, no? Era una cosa, era lavare la coppa dall'esterno, ma non c'era una conversione interna. Perché? Perché non c'era la scuola, perché erano ciechi, perché erano muti, perché erano sordi, perché non sapevano. Si ludivano di vedere, si ludivano di ascoltare, si ludivano di parlare e ne parlavano, ne ascoltavano, ne udivano, perché il loro cuore era marcio, come il tuo e il mio. Questo ladrone riconosce che tutto ciò che le è accaduto è perfettamente giusto. Per questo l'unica cosa che può fare è ricordati di me, ricordati, guarda, ricordati, ricordati. Un bambino può fare solo questo, questo è accogliere il Regno dei Cieli come un bambino. Sapere che non hai nessun diritto, sapere che veramente, cioè tu, io e te, non abbiamo nessun diritto. Che la mia storia, che quello che io sono, con le mie debolezze, con le mie incoerenze, non è impedimento all'amore di Dio, non è impedimento all'amore di Dio. È il mio orgoglio, la mia superbia, impedimento ad accogliere l'amore di Dio. Ma se la più grande notizia è che Cristo sia fatto piccolo, bambino, l'ultimo, l'ultimo, per prendere l'ultimo in braccio e benedirlo, cioè dire bene della sua vita, dire bene di questo disgraziato, dire bene di... e di fatto dice bene, lo benedice. Oggi sarai con me nel paradiso. E questa è la vera benedizione, questo è dire bene, questo è accogliere quell'uomo peccatore così com'è e lavarlo, purificarlo in quel sangue che stava in quel momento offrendo il Signore. E questa è l'immagine, cioè come se Gesù abbracciasse dalla croce quell'uomo. È come ha fatto oggi nel Vangelo. Prende i bambini, stende la mano sopra di loro, li benedice, li fa suoi. È lui il regno di Dio, il regno di Dio è Cristo. Allora puoi accogliere Cristo soltanto come un bambino, cioè così come sei. Dio ti ama così come sei. Ma come sei? Lo devi scoprire, lo scopriamo ogni giorno, la storia ce lo dice. Ecco, Signore, ti prego che io possa accoglierti come un bambino, cioè così come sono. Che non mi giudichi, che non esiga da me stesso, che non disprezzi me stesso, che non disprezzi la storia, che accetti le conseguenze dei miei peccati, che resti crocifisso, che io possa dire, Signore, ricordati di me, guarda, quello che sto vivendo. Se mia moglie non mi parla, se mio marito non mi parla, se i miei genitori sono adriati con me, se i miei figli sono... è giusto. Questo ci fa bambini, cioè ci fa di noi i possessori del Regno dei Cieli. Nel momento stesso in cui sei un bambino, cioè sei quello che sei, sei, possiedi il Regno dei Cieli, appartiene a te il Regno dei Cieli. Capisci? Ma se questa fosse la vera nostra esperienza, di tutti i giorni, di questa dipendenza totale, noi saremmo tornati al paradiso, così come siamo, perché avremo Cristo che ci abbraccia, ci stringe sulla croce a sé, avremo la sua vita travasata nella nostra vita. Tutte le nostre relazioni cambierebbero, perché vedremo nostro marito, nostra moglie, come colui che, così com'è, è possessore del Regno dei Cieli. Allora aiuteremo, con il nostro atteggiamento, con le nostre parole, il Cristo in noi aiuterebbe l'altro a essere quello che è, libero, per poter scontrarsi anche, se vogliamo, tante volte, con la propria debolezza, col proprio essere bambino, aiutandolo a uscire dall'orgoglio, per accogliere, per accogliere anche lui il Regno dei Cieli. Ma è l'unica occupazione di due fidanzati, essere questi bambini, tornare ad essere questi bambini, convertirsi, entrare nella verità, per accogliere insieme lo stesso Regno dei Cieli che è Cristo. È lì fondare il matrimonio, è lì fondare la vocazione presbiterale, è lì la vocazione al celibato, ad essere suora, consacrata, alla missione. È lì un letto d'ospedale, e tutti i piccoli, tutti i bambini. Questo è il nostro sguardo, anche di fronte alla sofferenza degli innocenti, agli anti-bambini, è il loro Regno dei Cieli. Loro sono il mio specchio. Quando noi guardiamo le immagini televisive di questi bambini sofferenti per la guerra, quello è la mia vita, è a causa dei miei peccati. Non sono degno di nulla, non sono degno di nulla, non ho diritto a nulla. Eppure Cristo si è fatto maledizione per me, per benedire me, per benedire, per trasformare la mia maledizione benedizione, per mutare il mio lamento in canto di gioia, per mutare questa situazione, la mia croce, la croce di oggi, nella porta che mi schiusa davanti al cielo. Oggi sarai con me in paradiso, oggi sarai con me nel regno, cioè oggi sarai una cosa con me. Oggi, questa è la parola che ci dà il Signore, oggi e ogni giorno. Coraggio, fratelli, coraggio, bambini di Dio, veri bambini. Lasciamoci abbracciare e che il Signore ponga la sua mano sopra di noi e così vivere senza impedire che chi ci è accanto vada a Cristo, anzi, accompagnando chi ci è accanto alla benedizione di Cristo, così com'è, con un amore per essere abbracciati entrambi, per essere abbracciati tutti, nello stesso amore sconvolgente, scandaloso, un amore che non è di questa terra, che nessuna carne può neanche immaginare, l'amore che ci dà diritto ad avere ciò di cui non abbiamo diritto. Che fa di noi? Coloro che posseggono, coloro ai quali appartiene ciò che non dovrebbe appartenergli, per pura grazia. Chi vive nella grazia, chi vive nella gratuità, è l'uomo più felice di questa terra. Per lui tutto è grazia, come diceva Bernanò nel diaro di un curato di campagna. Tutto è grazia agli occhi di chi è stato purificato dalla grazia, di chi è stato purificato da questo amore che ha distrutto l'orgoglio e la superbia. Ora no 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 a